Ciao a tutti ragazzi, io sono papà salvo, prima di cominciare questo pigiama party, si già ve l'ho svelato Iscrivetevi al canale Cavaleri Family e cliccate sulla campanella, non diventicate di seguirci anche sui nostri social, instagram e tiktok Si si si, iscrivetevi anche al canale dei Cavaleri Sisters, esatto bravi bravi e attivate anche lì la campanella ragazzi Sapete perché sto bisbigliando? Dall'altra parte c'è Aurora, Noemi e un ospite segreto Se la riconoscete scrivete giù nei commenti il suo nome, va bene? Guardate, la stanza è stata stravolta, la scrivania l'abbiamo spostata Qui c'è un letto, qui un altro letto Allora questo sarà il letto di Aurora Questo qui sarà il letto della Emi E questo qui dove sono io sarà il letto del personaggio misterioso A chi toccherà questa volta a fare il pigiama party con la Cavaleri Family? Lo scoprite a breve Ma prima di scoprirlo, entro tre secondi, cominciamo questo video con un bel mi piace Ok? 3, 2, 1 Hai messo il mi piace? E' perché se non l'hai messo non puoi guardare questo video, scusa eh Ok, andiamo di là e vediamo cosa fanno Aurora, Noemi e il personaggio misterioso Stiamo in silenzio, dormiamo Se no papà Salva ci manda via E' vero, è vero Dormi, dormi Sì sì, sto dormendo Bravo, brava Ok, vediamo cosa stanno facendo Quelle birpanti, vediamo, vediamo Guardate Sentite questo rumore Non sono loro Forse qualcuno che qua su sta facendo dei lavori Mi sembrava che erano loro che stavano spaccando la casa Ma guardate allora, lei è il personaggio misterioso Lei è Aurora che dorme beata E qui abbiamo la Amy Ragazzi, ma allora questo sarà il pigiama party Oh, devo urlare, se no si svegliano Sarò un pigiama party bellissimo per me Perché loro dormono e quindi io posso andare a letto e riposare Finalmente Finalmente il personaggio misterioso che hanno scelto Aurora e Noemi E' un personaggio forse dormiglione, gli piace dormire Che bello Posso andare a letto E allora al mio tre ragazzi andrò a letto, va bene? 3, 2, 1 Ciao Era tutta una finzione papi Ma scusa, ma com'è una finzione, Auri? Ma allora che cosa volete fare? Veramente il pigiama party? Sì Ma scusate, ma chi è questo personaggio misterioso? Con chi dovremo fare oggi il pigiama party? Vediamo se la riconoscete, ok? Adesso vi farò vedere i suoi capelli Ecco qui Allora, facciamo capire ai nostri fan Chi è il personaggio misterioso che farà il pigiama party con noi Che colore ha gli occhi? Azzurri Ha gli occhi azzurri ragazzi Guardate come si muove Ma allora Aurora, lei faceva danza? Sì Faceva danza Ha gli occhi azzurri e i capelli sono castani Aurora Eh Ma questo personaggio misterioso Che scuola fa? Terzo elementare Terzo elementare Ma allora quanti anni ha? 8 Ok Adesso ragazzi faremo la prova voce Ok? Vediamo questo personaggio misterioso L'urlo che fa 3, 2, 1 Ragazzi Ma voi non vi siete spaventati? Ma questo è un urlo proprio di una bambina che ha una forza incredibile Va bene Andiamo alla prossima domanda Vediamo Il tuo nome con quale lettera comincia? Sì E con quale lettera finisce? A Allora ragazzi questo è un indizio importante Il suo nome comincia con la lettera K e finisce con la lettera A Quindi scrivete giù nei commenti se avete capito di chi si tratta E scrivete il suo nome mi raccomando E allora ragazzi vi presenterà questo personaggio Aurora e Noemi Signore e signori con noi farà il pigiama party Chiara Chiara Tu sei mia nipote tu sei una bambina molto brava Quindi che sta facendo? Ma scusa ma non ti spricci con la spaccata? Chiara Vediamo se spricci sta legato Chiara Andiamoci in piedi Ma questo si che è un bel pigiama party scusa cantate una canzoncina Single bag single bag single bag single bag All the money is so white what's the way Hey Aurora, Chiara, Moemi Adesso è arrivato il momento di andare a letter No PIGIAMA PARTY Sì è party Sì pigiama party Ma non si può il pigiama party Sì sì Ma sono le undici di sera E vabbè chi ce ne frega Allora ragazzi Io sono rimasto così perché già so quello che mi spetta Vediamo la faccia buffa che fa Noemi Vediamo la faccia buffa che fa Chiara Vediamo la faccia buffa di Aurora Fatti vedere Fatti vedere Fai la faccia buffa Tutti tutti con la faccia buffa vai Scrivete giù nei commenti chi di noi fa la faccia più buffa Ok Guarda Sì è Insegno Vabbè scrivetelo giù nei commenti e scegliete voi il vincitore Ok adesso si può andare a let Viva Ragazzi no Ma che volete fare scusa PIGIAMA PARTY Ma no pigiama party no Faremo un gioco solo ok Sì Ho preparato delle cose bellissime per voi Mettetevi di spalle Attendete un attimo che prendo il primo gioco del nostro pigiama party Ok ragazze vi potete girare Tiratevi su Siete pronte? 3, 2, 1 Gioca in spade Fate vedere le spade Aurora fai vedere la tua spada Spada della Eni Bianca Spada di Chiara Ma scusate cosa volete fare con queste spade? Lottare le spade Ma come lottare le spade? Ma contro chi? A te A te No Ma chi me l'ha fatto fare ragazzi? Ma no Ma scusate ma non si fa così Ma no Ok 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 Fermi 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 Vediamo chi si colpirà per prima Ok Chiara mettiti pure tu lì Noemi Noemi metti di lì Aurora metti di qui Al mio 3 Vediamo chi si colpisce per prima 3 2 Aspetta nanetta 3 2 1 Via Ragazzi Guardate Ma dovevi? E' una terrorista Noemi Ma cosa fai? Emi No ma cosa fai? Guardate Ma chiara ma tu cosa fai? Stai in calore E' un carciofino Ma che cos'è? Un carciofino Chiara ma tu cosa stai facendo le puzzette? Lauri ma chiara sta facendo le puzzette? Guardate ma Aurora E' un carciofino Miuro E' un carciofino E' un carciofino Ya Bravo bimbe Brave 근va Ragazzi Attacchiamo papà Fatti il silenzio anche a casa Ma guarda come si stanno divertendo Queste bimbe Ma perché a me No c'è l'imboscata Anche di là Mi butto sul divano Ma no Alla tutte le parti Emi ma cosa fai le puzzette in faccia Ma no Emi non vale le puzzette in faccia Scusa Zio io sono Sono stanchissima Brava tu Auri Emi tu sei stanca amore Ok bimbe vado a preparare le vostre stanze Va bene Ma che cos'è questo macello No c'era macello mamma silenzio Ormai è arrivato il momento di andare a nanna Papi interrompi questo pigiama party E' tardissimo O sveglieremo tutto il condominio Dai forza Mamma comunque queste bambine sono troppo brave Ragazzi voi giù nei commenti Invece scrivete con chi avete fatto il pigiama party O con chi vorreste fare il pigiama party Scrivetelo giù nei commenti e scrivete il suo nome Ok andiamo a vedere le bambine se già stanno dormendo In modo tale che porto il lattone No vabbè ragazzi Ma troppo tenere guardatele Sono proprio tre cugine Una più brava dell'altra Bravo papi sei stato bravissimo Ho fatto bene a lasciare nelle tue mani questo pigiama party Sapevo che ce l'avresti fatta E avresti avuto in pugno la situazione Bravo Zitta Stanno già dormendo Zitta zitta Che bravo papi Io vado a letto No vado a letto Vieni qua No no vado a letto Ah vai a letto Zitta 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 Ragazzi guardate che soddisfazione Tre cugine che dormono Tranquille e beate Adesso non mi tocca che rinvocare le coperte E dare il bacino della buonanotte Sono troppo bravo Silenzio che arriva la buonanotte Silenzio Ehi Ma come il vostro pigiama party Ma che sta succedendo dall'altra parte Tutto sotto controllo mamma No ma hai ragione papi è quello del piano di sopra Stanno facendo i lavori Buonanotte Buonanotte Allora facciamo così Noi mi dormiamo qua Silenzio mi faccia la ninna nana Ok tutta la notte stiamo così va bene Ragazzi non so più cosa fare Fuscilio papà salvo Non è il pandempo palmadino Aurora vieni vieni Devo dire un segreto Venite Ragazzi è il momento giusto di sparire da qui No 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 Allora papà salvo è proprio un pazzo dei pazzi di tutto youtube Eh si Ma dove hai venito papà salvo dobbiamo stufarlo Andiamo a vedere la sua camera Forse starà dormendo Andiamo Ragazzi Ce ne sono andate Mi sa che devo affidare questo pigiama party alla mamma Claudia Perché io non ne posso più Stanno arrivando Mi nascondo di nuovo L'abbiamo cercata per tutta casa Chiara Ma che cos'è questa cosa bucciosa Ehm che spussa Che puzza Che funzionerebbe Guardate questa parte Ma chi si va Aprami gli altri ragazzi Sì Ehm Ma è papà salvo Papi ma questo è il tuo controllo di un pigiama party Ma è tardissimo Ancora stanno giocando Vabbè Sapete cosa c'è Mi tuffo anch'io Ma come Ma cosa state facendo Ma sta giocando anche la mamma Anche la mamma qua si sta divertendo Guardate Basta ragazzi Speriamo che questo nuovo video vi sia piaciuto Prima di lasciarci Iscrivetevi al canale Cavaleri Family E cliccate sulla campanella Ma ricordate Noi siamo i Cavaleri Family Pazzesco ragazzi Non finirà mai questo pigiama party Ciao a tutti Aspetta aspetta dove vai Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family Clicca qui o qui Per continuare a guardare i video della Cavaleri Family Ci vediamo